Stiamo per mandare in onda l'evento del secolo. Anche i Matrix, gli esseri ritenuti perfetti poiché formati da numeri, sono venuti da altri pianeti per vedere questa trasmissione. Donne, uomini, bambini. Condotto da Marco Renzi, va ora in onda, aspettando il Festival del Cinema di Tropea. Buona visione. Buonasera a tutti da Marco Renzi, amici di Rete Calabria, benvenuti ad un appuntamento straordinario. Per quanto ci riguarda, è davvero una serata speciale, sarà una serata divertente, diversa dalle solite. Magari non faremo poi tante cose serie stasera, molte cose belle, divertenti, con tanti ragazzi, tanti giovani, appassionati di cinema più che altro. Aspettando il Festival del Cinema di Tropea. Questo è il nome di questa puntata speciale che vogliamo presentarvi, che vogliamo condividere con voi, aspettando questo festival, che saranno tra i più importanti in assoluto, e di questo ne parleremo tra poco, in collaborazione con Cine e Fimmi Calabria, che è un'associazione che si occupa di promuovere e produrre opere, filmiche, cortometraggi, e tanto altro, la cosa importante lo fa sul nostro territorio, in provincia di Vibo, Valencia. Qui abbiamo, innanzitutto, la responsabile di una scuola, che è il liceo classico di Tropea, che è la professoressa Ruffa. Professoressa, come sta? Sto bene, sto bene. Sarà una serata divertente, ci dobbiamo preparare prima a tante risate. Prima a qualcosa di serio, poi a tante risate. Sì, ci saranno anche argomenti seri, ci saranno anche dei cortometraggi seri, e soprattutto vogliamo sensibilizzare i giovani a quello che è poi questa attività, che tanti ragazzi che frequentano la vostra scuola ormai praticano da tanto tempo. Da tantissimo tempo no, e quest'anno all'interno del campus Paidea hanno scelto di lavorare in alcuni laboratori, hanno scelto di lavorare in un laboratorio di cinematografia. Intanto direi di partire subito con farci quattro risate, perché il nostro pubblico che è qui che saluto, vorrei proprio farlo vedere tutto con un applauso, che sono alcuni dei ragazzi di questa associazione Cine Film Calabria, aspettando il Festival del Cinema di Tropea 2013, che è previsto per luglio, quindi in piena estate. Partiamo con un cortometraggio, molto bello, mettetevi comodi e tranquilli, per la regia di Enzo Carone, un siciliano geloso. Grazie a tutti. Quando hai giro a fare la spesa, ti devi fare sempre accompagnare da mia sorella. E tu, sempre la devi tagliare. E quando cammini per strada, gli occhi a terra devi tenere, confidenza a nessuno deve dare. Rosalia, è geloso sono. Totò, tranquillo, devi stare, pensa che stai andando in continente a travagliare, a fare piccoli. Su, dai, stringimi forte e forte. Carissimo Totò, già un mese passò da quando partisti. Siccome sento tanto la tua mancanza, mandami una tua fotografia, perché la voglio stringere forte al cuore, per sentirti più vicino. Tu, Rosalia. Carissima Rosalia, ti mando questa foto, così la potrai stringere forte e forte al tuo cuore, come desideri. con affetto il tuo Totò. Rosalia! Cinque giorni e due ferie mi chiederò! e due ferie mi chiederò! Totò, ha pure di stringere forte e forte la tua foto al cuore, incinta, rimase. Odds, sonorata, com'è possibile che sia rimasta incinta se la mia foto a mezzo posto era? Questo è il primo cortometraggio, argomento la gelosia, la gelosia di un siciliano, ma non è finita qui, perché direttamente dalla Sicilia sono qui nei nostri studi Totò e Rosalia. Rosalia, lo sai cosa significano tutti questi applausi, vero? che famoso sei, Totò? Famoso? Il cornuto più famoso dettaglio mi hai reso con questo cortometraggio. Colpa della fotografia fu, Totò. Non manomanare quella fotografia, che mi dai, Nelvi? Io vado a Malano a travagliare con Costanza Elena per mandare piccoli a casa, ritorno e ti trovo con la panza, Rosalia! Costanza Elena? Cosa sono queste due disonorate, Totò? Non è che a Milano invece di travagliare fai il galletto con queste femmine? Costanza Elena ho modo di dire mica sono due persone, Costanza Elena. Vero, eh? Vero. Ma, comunque, Totò, ti volevo dire una cosa, il calendario come Belen voglio fare. Ah, il calendario come Belen vuoi fare? Eh, solo tu devi essere famoso. Io ti faccio fare un calendario più bello, quello dell'Aperelli. Davvero? Sì, che ti gonfie come la ruota e ti attacco al muro, Rosalia! Che il solito siciliano geloso. Comunque, per stare più vicini, mi è venuta un'idea. Sposta il tuo distributore, esso che è in Milano, qua in Sicilia. E così magari a Malano il distributore si chiama adesso. In Sicilia, magari lo chiamiamo Eddo. E a chi ci paga? Diamo la benzina senza piombo. E a chi non ci paga? Diamo solo il piombo, Totò. L'avete capita? Ti avevo già preannunciato che sarebbe stata una serata diversa dalle solite qui su Rete Calabria aspettando il Festival del Cinema di Tropea. Erano, li salutiamo con un grande applauso, sì, Totò e Rosalia, ma erano Enzo, Carone e Mimma Bevacqua. Grandiosi, molto simpatici. Intanto ci ha raggiunti, e vorrei salutarlo, il vice sindaco della città di Tropea, il dottor Massimo Landolina. Vice sindaco, buonasera. Benvenuto a questo che è un appuntamento importante per noi di Rete Calabria, ancora di più per Tropea, per questa città che è la nostra perla, sempre molto attenta a queste attività che si prepara ad ospitare questo grande evento che è il Festival del Cinema di Tropea. Esatto. E ma questa c'è l'artefice Enzo Carone, no? Che è? E per noi è un motivo di orgoglio, perché Enzo si sta facendo strada nell'ambito, un campo difficile come quello della cinematografia, che mette il risalto, lui si sforza soprattutto di mettere il risalto la bellezza della nostra città sotto l'aspetto culturale e artistico. e quindi questo non può che farci piacere come amministratore e come cittadini. E noi fa piacere che voi state già pensando ormai da tempo a pianificare, ad organizzare, perché soltanto pianificando si possono fare eventi come il Festival del Cinema di Tropea organizzati per bene e per tempo, quindi senza l'improvvisazione a cui purtroppo siamo spesso abituati. No, è chiaro che ci deve essere dietro un lavoro certosino, perché si tratta di manifestazioni di una certa portata che impiegano una forza lavoro anche intellettuale, non indifferente, quindi è evidente che bisogna andarci cauti e andare con i piedi di piombo, perché poi lo spettacolo risulti piacevole un po' a tutti. Grazie, grazie al Vice Sindaco, al Dottore Massimo Landolina, quindi vi chiediamo di rimanere attaccati, incollati sui nostri canali, quello più importante è il 19 del digitale terrestre visibile ormai quasi in tutta la Calabria. Protagoniste di questa nostra serata sono anche alcune ragazze del liceo classico di Tropea, le Francesca, hanno lo stesso nome, due cognomi differenti, Francesca Caprera e Francesca Latorre. Salve. Che saluto, buonasera. Chi è Caprera e chi è Latorre? Sono Caprera. Caprera, quindi di conseguenza lei è Francesca Latorre. Allora, Francesca, tu sei stata la responsabile del corso di cinematografia. In quei progetti sono stati inseriti i due cortometraggi che avete realizzato? Allora, i due cortometraggi praticamente sono stati inseriti, l'abbiamo fatti durante il Campus Baideia, il nostro gruppo di cinematografia che abbiamo creato per la prima volta, io e Francesca, un gruppo che negli anni non c'è mai stato, quindi è la prima volta che l'abbiamo portato. È un'esperienza nuova che è nata grazie anche alla vostra volontà, alla vostra passione, giusto? Sì, giusto. Abbiamo, siccome è molto piaciuto questo gruppo, i due cortometraggi sono stati graditi e ci hanno permesso di inserirli in progetti ancora più ampi sulla legalità. Ad esempio, un progetto d'istituto che si chiama L'Isola che non c'è e poi, secondariamente, è stato grazie alle associazioni che sono attivamente convolte insieme, in collaborazione con Differenza Donna, e ci hanno permesso di mandarli al Ministero. Bene, è stata un'esperienza toccante, importante per voi, per tutto il gruppo di lavoro, ma anche, immagino, per la città e per la scuola che è il vostro istituto e il liceo classico di Tropea. Poi è bello che l'iniziativa sia partita da due ragazze, anche molto giovani, che magari, non so cosa hanno in mente, soprattutto cosa fare tra poco finita il liceo classico. Tu hai già le idee chiare, Francesca? Più o meno. Cosa vorresti fare? Vorrei andare in Accademia Militare. Molto impostata come figura, sei molto rigida la vita militare. Non ti spaventa? No. Va bene. Francesca Latorre, che è qui al tuo fianco, quanto è stato difficile coordinare questo progetto? Beh, non è stato molto difficile, in quanto abbiamo avuto degli aiuti molto validi, cioè quello di Enzo Caroni e le sue collaboratrici, anche se comunque abbiamo trattato argomenti molto impegnativi. Abbiamo anche imparato come si gira e si monta un film. Quindi avete imparato tante cose. Sì, sì. Questa che è la vostra prima esperienza. Sì, è la vostra prima esperienza. Speriamo non sia l'ultima. Speriamo. Ce ne siano tante altre. Che cortometraggi vedremo, Francesca? Allora, uno si intitola Dimmi perché, l'altro è All Together. Entrambi realizzati appunto da voi. Allora, li possiamo vedere. Siamo pronti per far vedere anche chi ci sta guardando in questa nostra serata dedicata al Festival del Cinema di Tropea che si terrà a luglio, se non sbaglio, giusto Enzo? Nel mese di luglio, in piena estate, nella splendida città di Tropea, vediamo il primo cortometraggio Dimmi perché. Grazie. Grazie. Difficile per me raccontare questa storia. mi ha segnato e trasformato nel mio intimo come donna, come madre, come moglie. Mi assale la vergogna ricordando la violenza che ha corroso non solo la mia pelle ma anche il mio animo. Ci sono stati giorni felici. Tutto all'inizio sembrava così splendido. La casa, il lavoro, il nostro figlio, il frutto della nostra unione. e poi ha iniziato a prendere il sopravvento la violenza. La sua furia si sfogava su di me. Sembrava che ogni cosa che facessi lo disturbasse. mi desse fastidio e io a testa bassa subivo senza rendermi conto della gravità delle situazioni. E intanto i giorni passavano e i libidi aumentavano. mio figlio cresceva avvertiva la verenza capiva quello che stava succedendo ma entrambi ci siamo isolati ognuno nel suo dolore l'unica cosa che non doveva succedere è che mio figlio dovrebbe essi sopportare tutto questo. Ma ora basta. Non ce la faccio più ad essere tormentata. Ho bisogno di ritrovare la serenità e soprattutto di ritrovare la felicità per mio figlio. Ho ritrovato il coraggio. Il coraggio di dire no il coraggio di dire basta il coraggio di denunciare il coraggio di dire che le donne non devono subire assolutamente nessuna violenza. La protagonista di questo cortometraggio è qui nel nostro studio si chiama Giulia Meletti che salutiamo. Ciao Giulia benvenuta. Salve a tutti. Ciao Giulia è un ruolo impegnativo quello che ti è toccato che rappresenta sicuramente purtroppo la realtà che vivono tantissime donne in tutto il mondo quanto è stato difficile interpretare un ruolo così drammatico? Ecco appunto come hai detto tu dovevo senz'altro rappresentare un personaggio che soffriva subiva violenza quindi l'animo doveva essere angosciato con la paura non è stato facile perché già di per sé appunto il personaggio da rappresentare era difficile secondariamente anche magari l'ambiente in cui mi trovavo quindi la scuola con i miei compagni mi sconcentravano però diciamo che eravamo affiancati da un team appunto molto bravo competente Enzo Carone e le sue assistenti e ci hanno saputo accompagnare ecco non è stato poi così tanto difficile seppur è stato per tutti la prima esperienza non difficile ma impegnativo esperienza che ti ha sicuramente segnato che ti ha lasciato qualcosa dentro sì siamo venuti a contatto con questo fantastico mondo del cinema cinema uno strumento molto potente per lanciare senz'altro messaggi importanti abbiamo visto noi con questi due cortometraggi quali sono stati i temi che abbiamo voluto lanciare spero che le persone riescono a cogliere questi messaggi e adesso senz'altro guarderò un film con occhi diversi perché adesso tutti quanti del gruppo cinematografia sappiamo che il lavoro che collaborazione ci deve essere per far sì che frutti qualcosa di buono i truccatori Francesco Caprera mi ha truccato Dominic abbiamo scritto insieme il copione Enzo che riprendeva con la telecamera da più inquadrature quindi è un lavoro abbastanza intenso ti sentiamo molto entusiasta del lavoro che hai svolto che avete svolto un lavoro di squadra di gruppo e ti permetterà appunto domani già subito di capire cosa c'è dietro un film un cortometraggio dietro tutto ciò che si vede in televisione davvero un lavoro duro serio impegnativo però fatto di grande passione anche tu anche tu frequenti il liceo classico di tropea fai parte di questo gruppo che sta lavorando a questi progetti del gruppo di cinematografia avete realizzato un secondo cortometraggio che vorrei far vedere a chi in questo momento sta guardando Rete Calabria stiamo parlando di cortometraggi stiamo parlando di cinema di film più che altro aspettando il festival appunto del cinema di tropea luglio 2013 il cortometraggio realizzato dal liceo classico il secondo cortometraggio che vogliamo guardare insieme a voi si chiama All Together All Together Ehi ragazzi, ma secondo voi Mario è normale o qualcosa? Effettivamente da un po' di giorni è strano, si isola, non parla con nessuno, sempre scontroso. E tu Luca, tu sei il suo migliore amico, non dovresti sapere qualcosa? Che ne so, non so niente, io voglio starmi fuori. Che significa, fuori da cosa? Se Mario si sta cacciando in qualche guaio deve pur dircelo, siamo sempre sui amici, non possiamo rimanercene con le mani in mano. Mario sta frequentando un tipo che non mi piace. Basta ragazzi, dobbiamo andargli a parlare. Mario cos'hai? È da un po' di tempo che tutti ti vedono strano, è successo qualcosa. Io non devo dare conto a nessuno, e fatevi i fatti vostri. No ragazzi, Mario non è mai stato così impulsivo, sicuramente è in uguale, dobbiamo aiutare. But I'm gonna try for the kingdom, if I can, cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I rush and on my run, and I feel just like she's a son, and I guess that I just don't know. Mario, ma chi era quell'uomo? Io non conosco nessuno, ma non ti avevo già detto di farti i fatti tuoi? Dai ragazzi, Mario è il pericolo, dobbiamo aiutarlo. Andiamo! 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 Cosa vai? Sì, fermo! Sì, fermo! Siamo dai ragazzi del liceo classico di Tropea, All Together, abbiamo qui chiaramente uno dei protagonisti, il protagonista maschile che ha rappresentato la realtà di un giovane che vive una situazione difficile. Si chiama Antonio Muzzupappa. Ciao Antonio! Salve! Benvenuto Antonio! Antonio, hai interpretato un ruolo sicuramente difficile di un ragazzo drogato, aiutato però dai compagni. Quanto è importante, Antonio, per un ragazzo che vive una situazione difficile in famiglia e non soltanto la scuola? Quanto può aiutare? È molto importante in quanto noi giovani ci troviamo a passare la maggior parte del nostro tempo tra i banchi di scuola e sono importanti altrettanto le amicizie che si instaurano tra i compagni, in quanto appunto ci sono buone e cattive amicizie. Quello che si trovano in questa situazione è ad aiutare i ragazzi di animo debole. Sì, è importante quindi la frequentazione, le amicizie buone come dici tu. Però vorrei chiedere anche a Giulia, scusami Giulia, visto che sì è importante frequentare amici buoni, amici che percorrono una corretta strada, però quando si hanno dei conoscenti, degli amici che magari purtroppo hanno trovato una strada sbagliata, bisogna aiutarli o bisogna isolarli? È questo proprio il messaggio che volevamo trasmettere, la cooperazione per portare avanti i buoni valori, quindi no alla droga, no alla violenza. Quando si vede una persona in difficoltà, sempre aiutarla. Quindi essere solidali verso tutti. Brava Giulia, questo è un bel messaggio. Vorrei parlare un attimo con la professoressa del liceo classico di Tropea, la prof che vi ha accompagnati. Come dicevamo in apertura, tocchiamo come giusto che sia stasera, che vuole essere una serata divertente, spensierata, diversa da tante altre, ma è importante lanciare messaggi seri, messaggi che arrivano direttamente ai nostri telespettatori. I ragazzi del liceo classico hanno iniziato un percorso su un progetto di legalità, vero professoressa? È un progetto che i ragazzi dell'istituto di istruzione superiore di Tropea fanno da tanti anni e all'interno di questo progetto, alla fine del secondo quadrimestre, organizziamo un campus che noi chiamiamo ogni anno, gli diamo un valore, una valenza diversa. Quest'anno era il campus Paideia, ispirato alla metodologia didattica di Don Milani. Don Milani diceva sempre che oltre la scuola e i contenuti bisogna imparare per la vita. Quindi noi chiudiamo le lezioni per una settimana e prepariamo dei laboratori. Nella prima parte della mattinata incontrano personalità del mondo dell'associazionismo, della cooperazione, della politica, delle istituzioni. Nella seconda parte della giornata organizzano dei laboratori gestiti da loro. Quest'anno all'interno di questo progetto nel liceo classico hanno fatto un laboratorio di cinematografia, un laboratorio di fotografia, un laboratorio di informatica, di musica e di arte. Poi se andiamo ad analizzare sono le tematiche che sono più vicine a loro e che in questo momento si riconoscono. Perché la cinematografia, la fotografia manda messaggi immediati, ma che in questo momento possono anche socializzare attraverso internet e social network. Ecco professore, se lei insegna chimica abitualmente, però la scuola sta cambiando, si è evoluta in qualche modo, quindi la chimica è importante, tutte le altre materie sono importanti, ma è importante anche che i ragazzi vivano la realtà scolastica anche per come stanno facendo questi ragazzi di questo gruppo. Devono vivere la società attuale, conoscere i contenuti classici, ma nel frattempo devono vivere la società attuale. Devono vivere, io direi devono vivere, che è la cosa più importante. Devono vivere tutto. La comunicazione non c'è, è importante che ci sia la comunicazione tra la scuola e gli alunni, tra la famiglia e gli alunni e la società, anche per combattere il disagio sociale e sensibilizzarli a queste tematiche, tipo la violenza sulle donne, combattere la criminalità organizzata, tutti i disagi giovanili che ci possono essere, in un territorio turistico che offre due mondi diversi, un mondo invernale e un mondo estivo. Che sono totalmente diversi. Ed è giusto che si faccia per come lei ha detto, perché tutto ciò si può combattere con la cultura, con l'aiuto della scuola e con l'aiuto della famiglia, tutto insieme. Grazie alla professoressa, la professoressa Ruffa del Liceo Classico di Tropea. La nostra serata va avanti, bentrovati amici di Rete Calabria, aspettando il Festival del Cinema di Tropea. Tropea che è una città adorabile, bellissima, che io vivo quasi quotidianamente durante l'estate, un po' meno durante l'inverno, devo dire, perché in effetti è una città prettamente turistica, poi in estate si sta davvero splendidamente. A luglio ospiterà questo festival dedicato appunto al cinema, festival che prende il nome della città di Tropea. Qui abbiamo anche il vice sindaco e tra po' chiacchiereremo ancora per parlare di questo appuntamento, ma magari un po' di quello che ci aspetterà quest'estate a Tropea. Intanto abbiamo altri cortometraggi, ringraziando tutto il gruppo di cinematografia del Liceo Classico di Tropea. Grazie ai ragazzi! Ora divertitevi con i prossimi tre filmati. Si chiamano la carta di credito alla stazione e la denuncia. Buona visione a tra poco. Ieri mia moglie ha perso la carta di credito. Ma l'ha fatta la denuncia? No. Perché? Perché mi sono accorto che il ladro spende molto di meno. No. Chiara! Ciao, come stai? Ti ricordi di me? Sono Geraldine. Geraldine, ciao! Tutto bene, tu come stai? Io tutto bene. Tu che fai? Sono all'università, sto studiando. Sono l'ultimo anno. E tu invece? Io tutto bene, lavoro. Ad ora aspetto anche un bambino. Un bambino? Ehm... Con che treno arriva? Grazie a tutti Carabinieri, buonasera Sì, mi hanno appena rubato la macchina Sì, dovrei fare la denuncia Mi passi il collega competente E un attimo che me fumo Può aspettare un attimo in linea? Grazie Appuntato? Sì Ma per caso noi qui abbiamo un collega di nome competente? Competente Competente Abbiamo Rossi, Caputo, Esposito e Caracciolo Competente no Sì, sono io Carabinieri di prima Ascolti, collega di nome competente Non ne abbiamo Ma è sicuro che lei cerca proprio qualcuno qua Ciopea che non fosse magari in forza Al comando di Vibo Valencia per caso Può provare là se vuole Se è proprio gente L'applauso per questi altri cortometraggi con diversi protagonisti Abbiamo visto la carta di credito alla stazione e la denuncia Protagonisti sono Chiara, Geraldine, Roberto, Domenico e Marco Qui in studio abbiamo Marco e Chiara che sono qui Ciao Chiara Innanzitutto come vai di cognome scusami? Caracciolo Caracciolo Tu hai finito la scuola? Sì, sono laureata Ah, sei pure laureata Non l'avrei mai detto Non ti chiedo l'età però Insomma, ti sei laureata molto giovane C'è? Eh, non so Vabbè, sorvoliamo, sorvoliamo Come è stato Chiara? È un'esperienza bellissima, nuova Da ripetere? Sicuramente Sì? Sì, sì Cosa fai nella vita tu Chiara? Ehm, laureata in scienza e la formazione primaria E attendi lavoro Quindi attendi lavoro Immaginavo In bocca al lupo Chiara Grazie Grazie Insieme a te c'è Marco Giusto? Domenico Domenico, scusami Domenico Buonasera Ciao Domenico, buonasera a te Domenico di Tropea? Sì Giusto? Sì, sì E tu Dintorni di Tropea Dintorni Dintorni, Santa Domenica Di Santa Domenica Santa Domenica di Regali Esattamente Allora, caro Domenico Prima esperienza anche per te? Eh, no Diciamo che con Enzo Carone La cosa che mi colpisce più di Enzo Parlando di Enzo un secondo E che è la condivisione del cinema Che Enzo le vuole condividere le cose E quindi una volta condivisi Anche chi viene chiamato Capisce Quello che sta facendo Cioè con Enzo Diciamo la prima esperienza Anche con Il primo suo film Piacere suono Piero Che C'è sempre una comparsa E poi Mi sono conosciuto con l'enzo Enzo nel suo curriculum Ma c'è una prima storia d'amore nel cinema Tutti si è innamorato Di Chiara Ci siamo conosciuti Durante le riprese Di questi cortometraggi È nato l'amore Come siete teneri Datevi un bacino così Lo immortaliamo Mandatevelo quantomeno Manda un bacino a Chiara Bene Vi sono felici e contenti Gireremo un cortometraggio Sulla vostra storia d'amore Questo lo chiederemo a Enzo Così insomma rimarrà Negli annali Che carini Ma chi è stato a proporsi? No tutte e due Tutte e due È nata da sé diciamo È nata da sé Senti A te piacerebbe interpretare Più un ruolo In un film drammatico In un ruolo decattivo O un personaggio buono? Ma veramente Pensare più buono Cioè anche Senso Mi ha fatto fare una parte Che non è da me Dovevo rullare Una sigaretta Una canna Nel suo film Scusate l'espressione così Però Però no Cioè piacerebbe buono Ti piace? Dai la faccia da buona Insomma Chiara ha scelto un buono Chiara ha scelto un buono E Chiara come è buona o cattiva? Sì 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 E poi certo Ti lascia cosa vuoi dire Grazie Grazie a Domenico e Chiara Due dei protagonisti Dei nostri cortometraggi Come vi dicevo Sono stati prodotti Da un'associazione Che si chiama Cine Film Calabria Che si dedica alla promozione Della cultura cinematografica Il presidente Di questa associazione È Enzo Carone Che vorrei chiamare Qui al mio fianco Ciao Enzo Se ti puoi accomodare Buonasera Enzo Insieme a te Vorrei anche Alcuni degli attori Come Francesco Apriceno Maria Teresa Gentile Che sono rispettivamente Direttore artistico Responsabile Dell'organizzazione Lui è Francesco E lei è Maria Teresa Gentile Enzo allora Cine Film Calabria Questa associazione Che si occupa appunto Di promuovere la cultura Cinematografica Che sta organizzando anche Il Festival del Cinema di Tropea Il primo Festival del Cinema di Tropea Dal 18 al 20 di luglio Nella vostra città Nella nostra capitale del turismo Parlaci dell'associazione E poi di questo festival L'associazione Cine Film Calabria È stata istituita da qualche anno E praticamente nel suo intento È quello di promuovere il cinema Nella Calabria Nella Calabria In particolare nel territorio di Tropea Come state vedendo Abbiamo prodotto dei corti Un film abbiamo fatto E in più il nostro evento Clu sul quale ci stiamo lavorando È il Festival del Cinema di Tropea Che dopo l'edizione pilota Dell'anno scorso Abbiamo capito che abbiamo Le potenzialità Di poter fare questo evento A me non resta che invitare Tutti quanti voi Cari amici di Rete Calabria Al Festival del Cinema di Tropea Che è dal 18 al 20 luglio C'è un sito Che è www.festivaldelcinematropea.it Posso dire che stanno arrivando Dei corti Dove la qualità è veramente molto alta E addirittura Forse faremo un cine gemellaggio Con un paese In provincia di Siena Poiché tutto il paese Ha prodotto un film E ha scelto proprio Il Festival del Cinema di Tropea Per fare la prima proiezione Quindi arriveranno Con 5-6 Pullman Tutti gli attori I paesani Insomma e così via E noi a Tropea Con l'ausilio del comune Ospiteremo tutta questa gente Dove ci divertiremo Scambieremo idee E così via Ci sono i presupposti Per una splendida Prima edizione Del vostro festival E per Tropea Quindi si sposterà A un paese intero Per venire A partecipare Ma anche ad assistere Al Festival del Cinema di Tropea Direttore artistico Giusto? Scusami Francesco Apriceno Cosa fa il direttore artistico Della Cine Film Calabria? Sì Buonasera Innanzitutto Permettimi un saluto Al pubblico da casa E anche un ringraziamento Particolare Alla produzione Di Rete Calabria Per aver deciso Di dedicarci Una puntata intera Alla nostra associazione E al Festival del Cinema di Tropea Che come avete sentito Si svolgerà Dal 18 al 20 luglio La Cine Film Calabria Di cui mi onoro Di essere direttore artistico È stata costituita Sin dall'inizio Come un laboratorio di idee In costante fermento Dove Giovani Inesperti O meno esperti Affiancati da esperti Come il presidente Il regista Enzo Carone Collaborano Confrontandosi E da qui scaturiscono Produzioni Di una certa originalità E qualità E poi Praticamente mi sta dicendo Che sono il più vecchio No Non è proprio così E poi Non devi aver timore Se è così è così Sei il più vecchio o no? E vabbè Ma qualche capello bianco Ma non più di questo Quelli che ci sono rimasti Enzo Scusami Eh scusa Dove essere una serata divertente Ridiamo perlomeno Diceva direttore artistico Scusi Beh dicevo innanzitutto Che ci occupiamo Di promuovere Di riflesso Anche l'intero territorio Per quelle che sono Le sue enormi potenzialità In termini di bellezze artistiche E anche di attori Che hanno fatto La storia del cinema E di attori anche Contemporanei Che stanno continuando A renderci orgogliosi Penso ad esempio Sia all'attore Luigi Cantoro Qui presente in studio Che ad Antonio Tallura Attore calabrese di cinema Televisione e teatro Che vedrete In veste di presidente Della giuria Nelle serate del festival E un'altra cosa Che ci tenevo a dire È che Stiamo producendo Diversi lavori cinematografici Cortometraggi Spaziando tra i diversi generi Dal drammatico Al comico E anche Dall'impegnato Al sociale Proprio per lanciare Dei messaggi Molto importanti In questo abbiamo deciso Di coinvolgere Anche le scuole Del territorio Tra cui l'istituto Di istruzione superiore Diretto Da Beatrice Lento E l'accademia Di belle arti Fidia Di Stefanaconi Che vorrei ringraziare Nella persona Del rettore Michele Licata E proprio da questa esperienza Abbiamo visto Quanti giovani Siano affascinati Dalla cosiddetta Settima arte E siano molto curiosi Di scoprire I segreti Che stanno dietro La macchina da presa Grazie Bene Francesco Prendi fiato Un bicchiere d'acqua Penso lo possiamo Candidare Alle prossime elezioni politiche Perché mi pare Che la dialettica La dialettica Non gli manca Ci stavi pensando? Ci stavo appunto pensando Hai le doti da politico Insomma Speriamo che tu sia più concreto La mia dote è migliore La concretezza Non quella dei politici Però Allora Mo vorrei rendere pubblico Giustamente il sindaco Ora Diamo diritto di replica Sindaco Ma non stavo parlando di lei Io parlavo della politica In generale Che purtroppo L'esempio che ci hanno dato In questi anni Non è dei migliori Ma non parliamo di politica Ora parliamo di cinema Che vedere qualcosa in politica Che effettivamente mi diceva Che voleva presentarsi in politica Dopo aver visto il film Qualunque mente Di getto alla qualunque E ha detto Ma quasi quasi Mi presenterei anch'io Se quello sa fare questo Io riesco a fare anche di meglio O di peggio Cioè Se prometti Autostrade di Pilo Sicuramente Potrai trovare il successo anche tu Scusami Maria Teresa Gentile Giusto? Una giovane Tra i giovani Protagonista di questa associazione Tu ne sei Il responsabile Organizzativo Esattamente? Esattamente Sì Esattamente Lo giuri? Lo giuro Bene Hai fatto una selezione Per trovare il personale Enzo Come queste figure? Beh Veramente No No Io ho un piccolo studio Vengono soli Queste persone appassionate di cinema E cerchiamo di coinvolgerle Marco Bene Maria Teresa Senti Tu sei giovane Quanto è importante E quanto è difficile Per i giovani Trovare spazio In una società Come la nostra Arroccata Su idee troppo tradizionalistiche Beh Innanzitutto Forse L'importante È quello di andare Ad approfondire Le proprie passioni Quindi Già così Si riesce A riunirci Insieme In gruppo E quindi Andando Ad approfondire Quello che è Quello che ci manca Diciamo Qui Nei nostri paesini Quindi Riunirci Come cooperativa Come dicevano prima E cercare Di portare avanti Quelli che sono I progetti nuovi Innovativi Quindi Noi abbiamo deciso Uniti dalla passione Per il cinema Di approfondire Alcuni argomenti Come appunto Prima abbiamo visto La violenza La droga Ma Si può spaziare Quindi Andando a parlare Di problemi sociali E anche culturali Quindi approfondire Quello che è anche La nostra cultura Perché no Fare vedere Come evolve Anche la cultura Calabrese Perché non restiamo Sempre indietro Anche noi Siamo pronti Ad andare avanti Quindi Quale modo migliore Del cinema È anche grazie All'associazione Cinefilme Calabria Che ci hanno dato L'opportunità A me All'altra ragazza Maria Romana Pedazzo Di dare un contributo Anche alla nostra cittadina Che è Tropea Con una semplice Iniziativa Che è quella Del Cineforum Che per quanto potesse Sembrare semplice In realtà Poi si è rivelata Difficile Per quanto riguarda Riunire i ragazzi Di Tropea Quindi cercare di farli Rientrare In un In un Convolgimento Comunitario Sto parlando Proprio Quindi Questo Forse è il modo migliore Quello del cinema Dell'arte in genere Cercare di coinvolgere La popolazione Per portare avanti La nostra cultura Bravo bravo Complimenti Maria Teresa Ai due rappresentanti Validi Enzo Complimenti Il direttore artistico La responsabile Organizzativa Li possiamo Portare avanti E comunque Non avete conosciuto Anche La terza Voglio dire Che è sulla mia sinistra E si sta nascondendo Però a te Romana Ho preparato un qualcosa Una domanda tutta Inni Che mo Marco Ti farà A tra poco Quindi per te Grazie intanto Ai componenti Della Cine Film Calabria Enzo Carone Che è il presidente Dell'associazione Noi Andiamo avanti Con altri Cortometraggi Molto belli Molto divertenti Quindi guardateli Con attenzione Sono Le telefonate Lo scambio Lo zoppo E la Ferrari Buona visione Torniamo tra poco In studio Allora Il lavoro come va? Ma il lavoro Ci sono alti Ci sono bassi Chi fa il lavativo Chi lavora E così Scusa Pronto Direttore Come sta? Tutto a posto? Sì Domani Domani alle 16 Va bene Va bene Ho già segnato tutto Grazie Anche a lei Buona serata Arrivederci Dicevi? Praticamente in ufficio Va tutto bene Rossi È il solito capo ufficio Secchione Però va bene Scusa Pronto? Sì? Sì? Sì sono io Mi dica Sì 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 Guardi Ora Sono in riunione Ci sentiamo dopo Grazie Grazie Buona Anche a lei Arrivederci Scusa No Allora ti dicevo Per quanto riguarda il lavoro In ufficio va bene Però Rossi È il solito È il solito È uguale La sesta storia Tutto uguale In ogni ufficio La sesta La pecora C'è sempre Lo puoi dire C'è sempre Scusa Pronto? Amore La spesa La faccio io Ci vediamo stasera Va bene Sto finendo Grazie Ciao 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 Ma si può sapere Che hai? Eh C'ho lo scatto Alla risposta Sai Ieri ho preso Un cane Per mia moglie Fantastico Dov'è che fanno Questi scambi interessanti? Scusi Ma perché cammino in questo modo Con un piede sul marciapiede Con un lato sulla strada? Madonna Pensavo di essere diventato Zoppo Grazie 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 Roberto Te lo ricordi Luca? E come no Certo che lo ricordo Moriva dalla voglia Di avere una Ferrari E poi come è andato a finire? E' morto E' morto E rieccoci 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 qui in studio Dopo la visione dei quattro cortometraggi Le telefonate Lo scambio Lo zoppo E la Ferrari Sentiamo però Cosa hanno preferito di più Il pubblico qui presente in studio Non posso chiederlo a voi Però penso che tra i quattro cortometraggi Abbiate il vostro preferito Sentiamo cosa ne pensano qui in studio Ciao Tu come ti chiami? Ciao Ciao Quale ti è piaciuto di più dei quattro? Le telefonate Lo scambio Lo zoppo o la Ferrari? Le telefonate Le telefonate Non avevo dubbi Tu sei? Domenica La tua? Lo zoppo Lo zoppo Tu invece? Sabrina La tua preferita? Telefonate Le telefonate 2 a 1 per le telefonate Da questa parte lei che ancora non ha parlato Ti chiami? Samantha Samantha? Che cos'hai Samantha? Sei terrorista? Ti faccio paura? No Meno male Senti Samantha Le hai viste tutte attentamente Quale ti ha colpito di più? Le telefonate Le telefonate In assoluto Mi pare che Sentiamo le ultime due qui Dai da questa parte Tu sei? Selenio Selenio Ciao Leccio classico? Sì L'avrei scommesso Guarda Selenio Senti sei proprio dal liceo classico Tu Selenia Quale ti è piaciuta di più? Le telefonate Le telefonate Ancora che ridi sei? E tu invece? Giulia Giulia Anche tu liceo classico? Sì Anche tu sei impostato dal liceo classico E quale ti è piaciuto? Le telefonate Le telefonate Le telefonate la proporremo come cortometraggio Sicuramente più votato Almeno qui in studio Ma le rivedrete anche nei prossimi giorni Perché magari le programmeremo anche In alcuni momenti della nostra giornata Essendo davvero molto molto belle Molto interessanti e divertenti Altro cortometraggio Si chiama L'impiego Già il nome la dice tutta L'impiego al comune Guardiamoli insieme L'impiego al comune Guardiamoli insieme Avanti Buongiorno Buongiorno Sono Cantoro Cantoro Lei ha vinto il concorso Il concorso pubblico Sì sì Sono io Piacere Enzo Garone Ho saputo che ha risposto al concorso magnificamente a tutti i quiz Sì sì ma prego si accomuna Grazie Grazie Quest'ufficio Però guardi Devo essere sincero con lei Visto che diventiamo colleghi Perché Alla domanda Ce l'ha presente quella che dice Se siamo al 100% Io Ho risposto sì Però C'è un piccolo problemino Non è proprio così Le spiego Prima di fare questo concorso E di vincerlo Lavoravo nei cantieri Sai quei cantieri duri Quelli edili E ha presente una lasta di marmo di quelle grosse Quelle grandi Mi è chieduta lì Lì Sì sì Lì Ma il problema non è che mi è caduta lì È che mi hanno dovuto Amputare i testicoli Però Le chiedo una cortesia proprio Grande Non faccia parola con nessuno Perché sa Ho sempre detto una bugia In quella domanda E poi io non voglio neanche che si sappia Sa una cosa molto intima Signor Cantoro sono desolato Ma non si preoccupi Non farò parola con nessuno Quindi ci vediamo domani Dalle 10 alle 13 È stato un piacere A domani Mi scusi Visto che lei è così gentile Ma prima mi ha detto che l'orario Di domani è dalle 8 alle 13 Sì ma noi in ufficio In genere Dalle 8 alle 10 Ci grattiamo le palle Lei Che viene a fare? L'impiegato al comune Luigi Cantoro Luigi Luigi Uomo al 100% Non lo so Dopo questo corto non lo so Non lo sai Grazie a te Luigi Cantoro Sono contento di rivederti Dopo un po' di anni Noi ci conosciamo da tanti anni Abbiamo fatto anche una gita turistica a Roma Siamo stati fuori insieme Ti ho lasciato in un modo Ti ritrovo in un altro Senza testicoli Non ce l'ho più Non è cambiata la tua vita Così velocemente Dopo questo corto tantissimo Grazie a Enzo Immagino Cioè prima Sei bene che avevo Sì Bella insomma Ragazza No oltre la bella ragazza No anche le corteggiatriche Anche tante Senza essere famoso Sì Oggi hai tanti maschietti Oggi ho cambiato sì Certo Oggi Vabbè sei sempre soddisfatto Mi guardo un po' le spalle Però sì sì Luigi Luigi Allora questa esperienza per te è importante Non semplicemente questa del cortometraggio Che abbiamo visto Tu sei di Ricordami il paese Vedi che è grave Amantea Amantea giusto Fa il fu No 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 Magari avevi cambiato città No ho cambiato solo sponda Basta E basta Di Amantea Calabrese Questa grande passione per il cinema Quanto è difficile In Calabria E soprattutto per un giovane Diventare attore oggi Vabbè devo fare un attimo una premessa Nel senso che A me è nata l'idea di fare l'attore Anche se l'attore è un mestiere Quindi tanto di rispetto per i professionisti Dietro c'è un percorso Veramente impegnativo Molto duro Quindi chi fa questo per mestiere Merita tanto di rispetto Spero un domani di meritare Il titolo di attore Quindi insomma ci vuole ancora un bel po' di strada Ma al di là di questo Io È nato così per caso Un giorno ero spapananzato sul mio divano Come sempre Grazie Vedendo un film Hanno fatto vedere Dietro il vesteggio Guardo sta cosa Tra me e me dico Io spapanzato No così Però prima di morire Un set me lo devo vivere Ma È una riflessione tra me e me Morta quasi sul nascere A distanza di qualche giorno Leggendo il giornale Vedo Casting Quasi sotto casa mia Un paese il più vicino Prima quasi quasi vado Ci vado Sì Ecco l'occasione giusta Hai lasciato il tuo divano Lascio il mio divano Per regarmi a sopravvino Nel senso Non ci volevo neanche andare Perché Pensavo Ma prendono me Non ho nessuno Non conosco nessuno Cioè Pensando che ci volessero Le solide raccomandazioni Eccetera Però mi faccio coraggio Vado così tanto per Per passare il tempo Per fare una cosa nuova Entro C'è la telecamera Mi danno un numerino Immagina tutto Insomma Tutti seduti Che guardano Tutti strani No? Chi legge il giornale Chi con il telefonino Arrivi là Un momento della presentazione Si mettono sugli attenti No? Quindi concentrati Io già là Ma che faccio? Che dico? Comincio a presentarmi Eccetera eccetera Poi Si alza una ragazza Senza guardarmi Con una scheda E mi fa Hai esperienze nel cinema? La guardo No Ma ha fatto qualcosa? No Ha mai recitato qualcosa? No Canta? No Balla? No Ma scusi Sei preparato almeno qualcosa Per essere qui? Tutti quanti in coro Hanno risposto loro Dall'altra parte No Tu hai detto sì In poche parole Penso che mi hanno preso per questo Perché non sapevi fare nulla Perché non sapevo fare nulla Quando si parte a zero è meglio Quando si parte a zero Ho partito proprio dalla base Dalla base Ma hai fatto tante esperienze in questi anni Luigi Da quanti anni? No no Da lì mi hanno preso in questo film Che era un bel film Con un bel cast Cast Un bel cast di attori Da Alessandro Benvenuti Insomma Gianni Pellegrino Un attore che adesso non ricordo il nome Che ha interpretato il Papa Boitiva nel film Quindi anche premio Oscar Quindi un film abbastanza importante Mi prendono come agente fascista E da lì è iniziato poi questo percorso Ho fatto degli amicizi E mi hanno fatto fare qualche battuta E è piaciuta E da lì insomma Ho appena finito di girare È iniziato il tuo percorso Il mio percorso Ho appena finito di girare con Salvatore Lazzaro Ricordate nel Capo dei Capi Un film che si chiama Tieni Mistretto Un film di mafia Dove faccio l'agente di polizia Il buono Il buono Ma ho fatto anche il cattivo all'interno del film Col casco Sparo, uccido Faccio insomma Entrambi Faccio tutto Tutto fare Tu sei talmente bravo Ti faccio fare tutto Luigi Ci sono tanti ragazzi magari Tanti giovani che ci stanno guardando in questo momento Tu hai iniziato così per caso Le cose si stanno concretizzando Speriamo sempre di più E sempre meglio Ma cosa ti senti di dire? Che consiglio ti senti di dare Ai giovani Ai ragazzi Che in questo momento ti stanno guardando Che hanno l'intenzione La voglia Il desiderio La passione Di intraprendere un percorso Così bello Ma così difficile Io dico che Il consiglio che do È quello che ho fatto io Andate Presentatevi Non Non Diciamo Non nascondiamoci dietro al fatto Che magari ci vuole la raccomandazione Ci vuole l'amico Eccetera A volte basta la simpatia Basta essere se stessi È magari un piccolo sogno Come il mio Di vivere quello Il set Si realizza pure Poi ben vengo Io adesso sto Inziando questo percorso Sperando che continui Sono già stato preso In un altro film Vado ai provini C'è dove mi prendono C'è dove non mi prendono Grazie a Enzo Insomma poi dopo Questa grande cosa Un grande futuro Nei ruoli Quello è garantito Certo Scusami Luigi Dobbiamo dire che Comunque Alla base di tutto C'è tanto sacrificio E tanto studio Perché È vero Recitare Diventare attori Non è così semplice Assolutamente Stare di fronte Ad una telecamera È complicato Bisogna dedicarci anni Studi E Infatti ho iniziato un percorso Adesso perché sta diventando Impegnativo Quindi edizione Recitazione Training Che è un po' la base Poi bisogna Fare un percorso Un percorso di studio Che è abbastanza impegnativo Poi io Ci vuole anche un po' di fortuna Certo Però notato che sei diventato carino Grazie amore Ho altri gusti Purtroppo nel ruolo Ormai mi è rimasto impresso Ah sì Vabbè Allora te ne puoi andare Te ne puoi andare No rimani con me un attimo Perché vorrei Questo cortometraggio È stato registrato Con la collaborazione Ma anche all'interno Dell'Accademia Fidia Di Stefanaconi Qui c'è un ragazzo Che frequenta l'Accademia Vorrei chiedere a lui Puoi avvicinarti Scusami Luigi Un attimo Ti porto un microfono E poi prendi il tuo posto Così mi stai lontano Che è meglio Adesso me lo ricordo Era quello che mi prendeva in giro Era lui Era lui Lui che fa parte Dell'Accademia Fidia Giusto? Ciao buonasera Come ti chiami? Nico Nico Frequenti questa Accademia Per diventare cosa E per fare cosa? Allora diciamo che sono Al primo anno dell'Accademia Ed ero partito con l'idea Di scrivermi a un altro corso Volevo scrivermi al corso di pittura Vevi le idee chiare? Diciamo abbastanza Poi ho visto che c'era anche Quest'altro corso di cinema Che mi intrigava un pochettino E qualcosa mi ha tirato Verso Non quell'altra sponda come lui Verso quell'altro lato Del cinema E ho deciso quindi Di intraprendere questa Nuova strada E ma nel mondo del cinema A te cosa piacerebbe fare? I ruoli sono tanti Diciamo che Bisognerebbe conoscere tutto Per poi decidere Quello che una persona vuole fare Giustamente non ho ancora Le idee molto chiare Mi piacerebbe fare sia l'attore Che magari Diciamo il regista Qualsiasi altra cosa Però intanto stai sperimentando E provando un po' tutto Poi deciderai Che strada percorrere E quel ragazzo che c'è al tuo fianco Come si chiama? Scusami Danilo Danilo Ciao Danilo Ciao Noi siamo innamorati Dei tuoi capelli Danilo Lo immaginavo Me lo dicono tutti Sì Tu cosa fai? No io non sono Di nessun corso Quindi No? No Sei un intruso? Chi ti ha invitato? Sei un imbucato Sei un imbucato? Sì Ho capito Ma i capelli sono tuoi o una parrucca? No sono i miei Ah sono tuoi Sono veri? Puoi provare per farlo Sono veri quei capelli Scusami Sono tuoi Va bene Grazie ragazzi Luigi No aspetti Presentiamo la prossima La prossima scenetta Che è un altro cortometraggio Guarda Presentalo tu Va bene? Quella di Totò La prima riga Vai Com'è il titolo? Dov'è? Non leggo Non vedo nulla Sto scherzando Per vedere Totò All'esame scuola media Seriale Serale Serale Buona visione Ho capito Il presentatore Non lo posso fare Allora signor Totò Vorrei sapere da lei Il nome di chi ha scoperto l'America Il nome? Professoressa Io sono venuta a fare esame Per prendere il diploma Di scuola media Serale Non a fare nomi I nomi I pentiti li fanno Bebe guardi Rimaniamo sulla scoperta dell'America Vediamo un po' Lei mi sa dire Chi sono La Nina La Pinta E la Santa Maria Professoressa Ma come glielo devo dire Io non conosco nessuno La Nina La Santa Maria Per me C'è bottane sono Che ne so io Chi sono le pensione Bene signor Totò Passiamo alla fisica Il principio di Achimete Cosa dice? Che un corpo Immerso in un fluido Cosa fa? Ah Questa la so Un corpo Immerso in un liquido Se non riameggio Dopo cinque minuti Un lavoro fatto bene Poveri poveri insegnanti Mi viene da dire Dopo aver visto Questo cortometraggio La serata sta quasi Per terminare Abbiamo ancora Un video da proporvi Poi dei saluti E ringraziamenti Da fare a tutto il pubblico Che abbiamo qui presente in sala Che vorrei ancora Far vedere Con l'ausilio Delle nostre telecamere Proporre un applauso Veramente forte Intenso A tutti quanti voi E prima di Di chiudere Vorrei Scambiare due chiacchiere Con La persona che avete visto All'apertura Della nostra serata Lei si chiama Domenica Il suo vero nome Però In arte Rosalia Quindi vorrei chiedere Rosalia di raggiungermi Qui al centro dello studio Un applauso per Rosalia Eccola qui Che ha recitato Proprio appena Abbiamo iniziato Buonasera La serata In compagnia di Enzo Carone Buonasera Rosalia Buonasera Buonasera a te È stato un po' L'esordio Il debutto Con Con questa Questo cortometraggio Per quanto ti riguarda Sì 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 Grazie a Vincenzo Ho realizzato un sogno È stato molto bello Lavorare con lui Con tutta la troupe Giustamente come hanno detto Anche i ragazzi Nel vedere un film In televisione O al cinema Ti sembra una sciocchezza Infatti lo guardi Spaparanzato Come diceva anche lui Sul divano anche tu? Sul divano Sulla sedia Dove capita? Sotto il tavolo? Veramente sì A volte Non si ha tempo E quindi si guarda La televisione Un po' nei ritagli E quindi vedere Cosa ci sta dietro È affascinante E poi Naturalmente sì È un'arte È un'arte Parlo sempre da profana Perché comunque Anche se ho fatto Questa piccola parte Non sono nessuno Per dare delle spiegazioni Però è affascinante E beati Quelli che riescono A fare questo mestiere Beati Chi riesce soprattutto A fare della propria passione Un mestiere In questo caso Perché ci vuole passione In qualsiasi lavoro Ci vuole passione Però in questo particolarmente Magari uno dice Ad un attore Danno dei cachet Miliardari Però è stressante Cioè Per fare tre minuti Di cortometraggio Ci siamo dovuti Alzare alle sei Ci siamo dovuti Vestire in quel modo ridicolo Cioè Ci devi mettere la faccia Ci devi mettere il cuore anche È il cuore Sì 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 Che importante Cioè però soltanto Se hai la passione Riesci a farlo È vero è vero E come è stato domenica? Perché sai Poi ci sono delle regole Chiaramente Devi sottostare Ecco alzarsi alle sei Fare quello che ti chiede il regista Questa esperienza Cosa ti ha dato? Cosa ti ha lasciato dentro? È bellissimo Poi riesci a vederlo Ti vedi pure tu Bello 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 E poi Vabbè Sarà che Vincenzo Oltretutto è diventato ormai un amico Siamo vicini Perché abbiamo Il suo studio è vicino al mio negozio Perché io in realtà Confeziono bomboniere Ah ecco Possiamo fare un cortometraggio Anche nel suo negozio Di bomboniere Così magari No però Diciamo che la sua conoscenza Ha aperto Diciamo La mia vena artistica E mentre confeziono Ogni tanto mi vengono Pensi Lo chiamo E io dico Sai mi è venuta in mente Un'idea Ieri Ne abbiamo parlato E poi chissà Magari Senti Domenica Prima di lasciarti andare Mi fai un attimo Rosalia Per favore Che mi è piaciuto Col tuo dialetto Proprio da Rosalia Una battutina Un saluto Ai nostri telespettatori Vediamo Un saluto Semplice saluto Come se stessi salutando Enzo Ok No vabbè Saluto tutti voi Saluto tutti voi Naturalmente Essendo siciliana Baciamo le mani A Bossia A Bossia Grazie Domenica Buonasera Grazie Ciao Grazie a te Grazie a Domenica Rosalia Che abbiamo visto prima L'associazione Cine Film Calabria Composta da Tanti giovani Qui ne abbiamo un'altra Che abbiamo citato prima L'ha chiamata in causa Enzo Carone Lei si chiama Maria Romana Pedazzo Pedazzo anche tu di Tropea? Sì Giusto Anche tu liceo classico? No No Professionale turistico Cambiamo scuola Perché c'è l'invasione Dell'iceo classico Stasera Quindi professionale turistico Hai finito? Sì 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 A voglia Quattro anni fa A voglia Ho 22 anni Hai 22 anni Cosa stai facendo ora? Faccio parte di questo film Cine Film Fest Dell'associazione Sì Dell'associazione Niente lavoro Ecco cosa fai? Dici un po' quello che è il tuo ruolo All'interno dell'associazione Come ti trovi a lavorare con Enzo Carone E i compiti che hai? Guarda mi trovo molto molto bene Il mio ruolo è fotografare Perché è quello che mi piace fare Effettivamente Poi le idee le mettiamo tutti E basta Ti prego cacciami in questo microfono Perché senti ma tu reciti anche Maria Sì? No No ti piacerebbe recitare? No 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 Però dovresti provare secondo me Dovresti No per me no Enzo Carone Una particina la diamo alla signorina In un prossimo cortometraggio Secondo me depone bene Hai il volto proprio da cortometraggio Che dici? Ci proviamo? No Dai dici di sì Non fa per me Dici 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 Sì Ok Grazie Grazie Enzo vieni Vieni Enzo Tanto qui è tutta impresa diretta Tieni Io chiedo scusa Scusate la mia intrusione Però adesso Come prima Luigi L'amico Luigi Parlava di un provino Ora Vogliamo simulare un provino Con Maria Romana La vogliamo qui al centro La facciamo un po' sfidare Sì ecco Mi sei piaciuto Mi sei piaciuto Un bell'applauso Maria Romana Ma deve Deve fare la miss O deve trovare una parte In un cortometraggio Scusami No una sfilata Ah una miss Perché proprio Prima di arrivare Ma secondo te sto bene? Sei vestita bene Aspetta Aspetta Inquadriamo Scusa Telecamera Enrico o Letizia Partiamo Partiamo dagli stivali Partiamo giù dai piedi Così facciamo vedere Il tuo abbigliamento Alla serata Allora saluta il pubblico Puoi salutare? No è troppo presto Vuoi fare fare la sfilata? Insieme allora Accompagnati Arrivò la notizia Stamattina Che ciccio sapuglio Pur rosina Che ciccio sapuglio Più pur rosina Sono andati via E noi stiamo anche per lasciarvi La serata è molto bella Molto divertente Interessante Prima però vorrei Richiamare qui Il vice sindaco di Tropea Il dottor Massimo Landolina Sì Si avvicina al mio fianco Grazie innanzitutto Di essere Grazie a lei Di essere venuto Negli studi Appunto di Rete Calabria Tropea Che è una città bellissima Che è stata anche La culla Del grande attore Raph Vallone Tropea è una città Molto attenta A questi appuntamenti Cosa può rappresentare Per Tropea Il festival del cinema Di Tropea Il festival del cinema Di Tropea Può rappresentare Tanto Perché questa Devo citarmi per forza Questa amministrazione Ha puntato molto Sulla cultura E la cinematografia È stato già citato La settima arte Quindi forse È la regina Della cultura moderna Attraverso il cinema Si riesce Ad esprimere Un milione di cose Va bene Quindi noi puntiamo molto Sulla cinematografia Abbiamo già puntato In passato Quest'anno Punteremo ancora di più Non soltanto Con le fatiche di Enzo Che appunto È sempre presente Da un aiuto Alla propria città Ma anche perché C'è allo studio Tutta una serie Ci sono allo studio Una serie di cose L'anno scorso Poi abbiamo inaugurato Sempre con la collaborazione Di Enzo Per allungare La stagione estiva Una serie di manifestazioni Culturali Dove il cinema Ha avuto la parte principale In collaborazione Con un gruppo Culturale La Lanterna Verde Di Roma La What Film E quindi anche quest'anno Speriamo di ripetere Questa esperienza Perché riguarda La cinematografia Riguarda la poesia Riguarda la literatura Riguarda L'immagine In senso lato Naturalmente Enzo Carone Con le sue iniziative È la punta di diamante Di queste iniziative Perché noi pensiamo Di non soltanto Di stargli A fianco Come meteta Ma Pensiamo che col tempo Questa manifestazione Possa assumere Un significato Sempre più importante Non soltanto Per Tropea Ma per l'intera Regione Calabria Ecco appunto Per l'intera Regione Calabria Tropea è una città Per noi importante È fondamentale Per il turismo Pasquetta Con il raduno Delle 500 In collaborazione Con l'automobile club Di Catanzaro E di Fibo Valencia Daremo inizio Praticamente A questa estate Poi Un'altra chicca Che vi posso dare In anteprima Giorno 9 aprile Si fermerà Al porto Una nave crociera E quindi Ci stiamo sforzando Per accogliere Questi turisti Tedeschi Perché vengono Con una Nave crociera A punto tedesca Si fermeranno Un giorno A tropea Per visitare La città E quindi Siamo impegnati In questo periodo Per cercare Con gli operatori Turistici Con gli operatori Economici Di accogliere Questi turisti Nel migliore Dei modi In modo tale Che poi Si possa creare Una tappa Annuale Va bene Per queste crociere Tutto questo In collaborazione Con la Regione Calabria Naturalmente In modo particolare Mi tocca citarla Con la vicepresidente Antonella Stasi Mi piace Mi piace l'idea Che tutto ciò Possa iniziare Per come ci ha detto Tra pochi giorni Tra pochi giorni E quindi Si inizia a fine marzo I primi di aprile Ed è giusto Ed è un bene Che sia così Che inizi In questo periodo E che finisca Sempre più tardi L'organizzazione La pianificazione Di eventi Di attività Di qualsiasi genere Tutto ciò Porta a benessere Alla città E al territorio Mi dimenticavo Di citare La grossa manifestazione Culturale Il festival del libro Di Tropea Che ormai Ha una risonanza Nazionale Il festival Inserito Il festival del libro Il premio Città Tropea Che vede appunto La presenza Di grossi nomi Della cultura Del giornalismo Questo serve Anche come attività Di promozione Alla città Tutto ciò Porta il nome Della città Di Tropea Che non è un caso Ma è evoluto E il cinema È un veicolo Straordinario Veicolo straordinario Di promozione Non c'è dubbio Bene sindaco Grazie Vice sindaco Chiedo scusa Vice sindaco Della città Di Tropea Io Chiaramente Ho fatto tanti spettacoli Anche lo scorso anno Visto che prima Abbiamo improvvisato Un piccolo Dei fili di moda Siamo stati in piazza A Tropea Lo scorso anno Con una delle selezioni Del concorso di bellezza Missi italianissima Speriamo di tornarci Quest'anno Non è una proposta Indecente la mia Speriamo Speriamo di esserci Anche quest'anno A Tropea Sarà un piacere Venerti come ospite Bene Aspettavo questa risposta Detto ciò Possiamo davvero chiudere È stata una serata piacevole Vice sindaco Massimo Landolina Il dottore Landolina Alla direzione di RK Grazie Grazie Chiaramente per tutto ciò Che possiamo fare Come mezzo di informazione E di comunicazione Siamo a completa disposizione Della vostra amministrazione E del territorio E del territorio Grazie al vice sindaco Bene Siamo in chiusura È stata una Speciale serata Voluta fortemente Da Enzo Carone Che ha trovato In noi la totale Massima disponibilità Ringrazio il liceo classico Di Tropea La professoressa Ruffa Ruffa Che ha accompagnato Alcuni dei ragazzi Che fanno parte Appunto di questo gruppo Che lavora A questo progetto Molto bello Ambizioso e interessante Un applauso Alla professoressa Ai ragazzi Ai ragazzi Che sono Sono qui Alcuni di loro Protagonisti Dei cortometraggi Che abbiamo visto All'associazione Cine Film Calabria All'attore Luigi Cantoro Luigino Grazie Grazie a te Luigi Ricordandovi ancora Le date Del Tropea Del Festival Cinema di Tropea 18-20 luglio Città di Tropea Questo è uno degli appuntamenti in calendario Probabilmente uno dei più importanti Enzo Carone Grazie a te Vieni Enzo Dai Così salutiamo Per chiudere Falla rientrare Sì Che rimane fuori Fuori scia Fai rientrare Ormai Avete fatto il defile in uscita Rifatelo in entrata Maria Romana Prende Ed Enrico Alessandro Invece i nostri operatori Se vuoi dire qualcosa in chiusura E poi l'ultimo cortometraggio E lo facciamo un grande applauso anche a Marco Ma forte però Bello bello Senti voglio fare un cortometraggio Quindi ci proviamo Senti un'ultima cosa Se qualcuno dei nostri telespettatori Avesse la voglia L'intenzione La volontà di proporsi Per iniziare un percorso Come deve fare Cosa deve fare Allora consultando il nostro sito www.festivaldelcinematropea.it C'è una pagina dedicata Agli artisti del cinema Quindi chiunque Può entrare nella pagina E iscriversi Mandando il curriculum Con la foto Insomma per fare dei corti Fare delle belle cose Bene sul sito Quindi trovate tutte le informazioni L'ultimo cortometraggio Noi vi salutiamo qui Magia 24 volte al secondo Grazie per essere stati con noi Buona serata Buon proseguimento Con i nostri programmi Da Marco Renzi Appuntamento a Tropea Dal 18 al 20 luglio Per il Festival del Cinema di Tropea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Enzo Enzo ci pensi che sono circa vent'anni che manchiamo da Tropea? Eppure E' sempre più bella E' proprio per questo Che Tropea In tutto il mondo Viene considerata la perla della Calabria A volte penso A nostro nonno Giovanni E' stato il primo ad avere Un cinema qui a Tropea Io avevo sei anni Tu forse dieci E tutte le sere Andavamo a vedere i film Che il nonno proiettava Ma ti ricordi Enzo? Mamma mia Giovanni Arceno il cinematografo Così chiamavano tutti i nonno Caro cugino Ma Ricordi quella persona Che aiutava il nonno nelle proiezioni? Peppino I due erano grandi amici Chissà che fine avrà fatto Anche lui Appassionato di cinema Proprio come nonno E' come non me lo ricordo Enzo Tropea E' conosciuta nel mondo Per le sue bellezze naturali Per la cipolla rossa Ma non tutti sanno Che Ha una grande storia cinematografica Basta pensare Al grande Raffa Vallone E a tutti i film che hanno girato Proprio qui a Tropea E' nostro nonno Che Con il suo vecchio proiettore Ha Proiettato film per diverse generazioni di Tropea Io ho un'idea Enzo Facciamo un festival Qui a Tropea Faremo un grande evento Un festival? L'Italia è piena di festival Famosi in tutto il mondo Io e te Che festival potremmo organizzare? No Luigi Faremo solo un buco dell'acqua Guarda E insomma noi abbiamo La storia cinematografica Di Tropea E' come diceva nostro nonno La storia Va raccontata Caro cugino Ho capito Che ti sei messo in testa Di fare la concorrenza Al festival del cinema di Venezia Solo che Ti ricordo Che a Venezia Al film vincitore Danno Il leone d'oro Noi Al film vincitore Che cosa diamo? Ah cipolla d'oro Anzi Visto che non abbiamo la lira Diamo direttamente una bella cassa Di cipolle Pronta per l'insalata E così facciamo contenti tutti No 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 Luigi Lasciamoci perdere va Ma Enzo Come dici tu? Sai che sta arrivando un acquazzonezzo Meglio andare va Andiamo Salve 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 Che te faccio E pioggia oggi Scusi Quanto costa il proiettore? Tutto quello che c'è su questa bancarella È in vendita Tranne il proiettore E perché sei illecito? Perché? No dai bene Da quello che ho un regalo Di un mio grande amico Che adesso non c'è più Chiedo scusa Chi era sta amico? Chi era quest'amico? Chi era quest'amico? Era un grande uomo Era Era quello che ha portato il cinema a tropea Giovanni Arceno Il cinematografo Lo chiamavano Ma è Che tempi E che serati Ricordo che durante le proiezioni Vasal era Piena così Di gente E lui le persone povere Che non potevano pagare il biglietto Li faceva entrare l'uvalve E io gli dicevo Giovanni Ma se tutta questa gente non paga E tu non guadagni E presto dovremo chiudere E lui Lui rispondeva sempre allo stesso modo Peppino Ma non capisci Che questi poveretti Non sorridono mai E tu che ci puoi fare? Gli dicevo io E lui rispondeva Non capisci Se io li faccio entrare A guardare il film E gli regalo un sorriso Amava la gente Amava la gente I bambini Ricorda che aveva Due nipotini Che erano pestiferi E che lo seguivano dovunque E volevano sempre giocare Con la pellicola dei film Si chiamavano Enzo E Gigi Si chiamavano E questo proiettore Me l'ha regalato lui Prima di morire Mi disse Peppino Continua tu A far vivere la magia Del cinema tropea E ricorda Che se la fotografia È magia Il cinema È la memoria La memoria Mi sta abbandonando Se la fotografia È magia Il cinema È magia 24 volte al secondo E questo apparecchio Ce lo fa vivere E a voi Chi ve l'ha detto Queste cose Lo diceva sempre mio nonno La memoria Mi sta abbandonando Ma Il mio cuore Impatte forte Come allora E Mi sta dicendo Che tu Tu sei Enzo E tu Gigi Eh Io Lorenzo Prendetelo voi Prendetelo voi Questo proiettore Vi appartiene E fate rivivere voi Ancora La magia del cinema Qua Altrove Eh Peppino Mio nonno Ti voleva un grande Peppino Noi stiamo organizzando Un grande evento Cinematografico Qua a Tropea Si chiamerà Festival Del cinema Di Tropea Proprio Per far rivivere La magia del cinema A Tropea Come facevate Tu e nonno Ah Ma vuoi fare il festival Eh Eh Magari ci chiamo Anche la cipolla Adoro No Ah Sì Sì Enzo Gigi Fatelo Festival Del cinema Di Tropea Fatelo per Tropea E fatelo anche Per il vostro nonno Festival Del cinema Di Tropea Pagliari Tres Tres Grazie a tutti. Grazie a tutti.